Musica Benvenuti, leggiamo le temperature registrate questa notte in Italia. Aosta meno 11, Bolzano meno 11, Trieste meno 5, Venezia meno 9, Milano meno 7, Torino meno 10, Genova meno 3, Imperia 1, Bologna meno 8, Firenze meno 6, Ancona meno 10, Perugia meno 10, L'Aquila meno 8, Pescara meno 1, Roma e Campobasso meno 3, Bari 2, Napoli 7, Potenza 4, Taranto 12, Reggio Calabria 9, Palermo 12, Cagliari 6, ed ora minimi all'estero. Stoccolma meno 6, Mosca meno 22, Berlino meno 11, Varsavia meno 21, Londra 2, Bruxelles e Parigi meno 5, Ginevra meno 6, Vienna meno 16, Belgrado meno 9, Malta 14, Atene 10, Madrid 3, Istanbul 0, Bucarest meno 17, Tunisi 8. Il sistema nuvoloso attualmente sulle regioni centro-meridionali continua a spostarsi verso Levante, consentendo così un graduale ma temporaneo miglioramento ad iniziare da Occidente. Tempo previsto fino alla mezzanotte di oggi. Su Sardegna, Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzi e Marche cielo irregolarmente nuvoloso, con addensamenti sulle regioni adriatiche e tendenza a rapido miglioramento ad iniziare da Occidente. Nuvoloso, molto nuvoloso sul resto del paese, con precipitazioni sparse che sui rilievi assumeranno carattere nevose al di sopra degli 800-1000 metri. Tendenza durante il pomeriggio a graduale miglioramento su Campania, Molise e Basilicata e successivamente sulla Puglia, mentre le precipitazioni si intensificheranno su Sicilia e Calabria. Nel corso della notte, nuovo aumento della nuvolosità sulla Sardegna e sulle regioni nord-occidentali. Temperatura in aumento sulle regioni meridionali, venti, moderati da sud-ovest sulle regioni meridionali, con locali rinforzi sullo Ionio, da deboli a moderati settentrionali sul resto d'Italia. Mari, mossolo adriatico ed il tirreno centro-meridionale, molto mossolo Ionio e da poco mossi a mossi i rimanenti bacini. Buona giornata. Meteo 1, con la partecipazione di Pasta di Vella Ma, ti piace così tanto? Da impassire. Alla passione degli italiani, De Agostini e De Cecco hanno dedicato specialmente pasta. In edicola ha mille lire il primo numero con il chiudi sacchetto. È una grande proposta di Agostini e De Cecco. Io preferisco il farmacotone. Perché è cotone puro, perché è ossigenato e non clorato. Perché è più bianco, più morbido, più igienico. Il farmacotone. Qualità pura. Natale sta arrivando, arriva Coca-Cola. Natale sta arrivando, arriva Coca-Cola. È già qui, sta per te, per noi. Buon Natale con Coca-Cola. Sono arrivate le nuove confezioni di Natale. E ti faranno vincere tantissimi tremini Coca-Cola. Non perderle. Buone feste da Coca-Cola. Sempre Coca-Cola.